ormai è ufficiale autunno è arrivato e da domani anche la seconda quarantena in lombardia però noi saremmo sempre qui su iris tv a divertirvi a mandarvi un sorriso buona informazione e perché no le nostre lezioni di stile saranno sempre accanto con voi. Irina Tirdea, iris tv. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.